Iesus, questo il musical andato in scena al teatro alla Fenice di Biancavilla, realizzato dagli studenti dell'Istituto Pietro Branchina di Adrano, con la supervisione e il coordinamento dell'insegnante Cettina Chisari, una rappresentazione che racconta le ultime drammatiche ore di Cristo prima della flagellazione e crocifissione. Insomma, la sua passione è vissuta dal punto di vista della Madonna, dei tormenti delle Gezzemani, al tradimento di Giuda, all'arresto, all'incontro con Pilato nel Sinedrio e al Calvario prima della crocifissione sul Golgotha, raccontate brillantemente in musica e danza, diventate in un crescendo intenso di giochi, di luce e soprattutto di voci singoli e corali, un tutt'uno con la recitazione. Il musical, che in Italia si rifà alla commedia musicale, alterna tra l'altro queste forme espressive di comunicazione. L'interpretazione del musical del cantautore Daniele Ricci inizia con l'entrata in scena di Gesù tentato dalle quattro ballerine del male, che rappresentano metaforicamente la tentazione del diavolo che Cristo subì nell'orto degli ulivi, un passo, questo, riportato dal Vangelo Sinottico di Luca. Ma il momento più emotivamente toccante è questo, la Madonna con in braccio il figlio morto sulla croce. Insomma, un'iniziativa lodevole che ha impegnato assiduamente i ragazzi sin dall'inizio dell'anno. A fine rappresentazione sono arrivati gli applausi scroscianti e meritati del pubblico presente al Teatro di Biancavilla, perché il pubblico si sa il solo critico la cui opinione valga veramente qualcosa.